bella a tutti ragazzi sono sergi adri e benvenuti sul mio canale siamo qua con call of duty e niente siamo rimasti all'episodio 2 oggi andremo a vedere l'episodio 3 appunto la campagna tanto vi dico già lasciate un like al video e iscrivetevi al canale appunto scusate sono un po' preso un po' a test ultimamente vabbè questo gioco comunque come la terza missione perché ho già completato il gioco quindi dovrei morire poche volte comunque le volte che muoio taglio come avete visto anche nell'episodio 2 infatti si vede che è tagliato di lagos riteniamo sia opera del kva un gruppo terroristico anti occidentale fondato da ex separatisti ceceni il nascondiglio e l'identità del suo leader nome in codice ATES vi spoilerò già che le munizioni di colore qui saranno 15 quindi cercherò di farle tutte nel breve tempo possibile ma io penso che per la fine dell'estate anzi nemmeno riusciremo a farle tutte 15 riuscirò a pubblicarvele perché appunto sto aspettando l'uscita di Call of Duty World War 2 che uscirà a novembre cercherò di completare questo prima possibile così poi per staccare con Call of Duty riprendere così appunto come con FIFA che staccherò la carriera allenatore farò l'ultimo episodio per meno verso l'uscita di FIFA 18 e si apreva poco la nuova carriera vabbè è finito lo spoiler aspettiamo che finisca anche il video e andiamo alla misone numero 3 che si chiama traffico siamo nel 2055 addirittura cioè io appunto avrò 55 anni pensate un po' drone in volo trasmissione feed ok ecco l'edificio versato qui ci abbiamo attivato il drone e qui mi sa che c'è da combattere molto sia appunto perché la missione che ecco la sala conferenze c'è un centro commerciale da da sparare oh questa qua che non ci aspetta verso i muri ecco qua siamo con il drone per fare questa scansione facciale o innocenti è questione di quando e di come sentimi è il nostro signore a deciderlo ucciderlo non servirà a me noi qua giriamo intorno tanto ti stai sbagliando ucciderlo servirà a molto mi sa che è morto qualcuno ci stai sbagliando ok bene gente abbiamo via libera tre minuti ad alfa tempo se attacchiamo uccideranno il premier lo faranno comunque dobbiamo salvarlo facciamo presto siamo qua con l'esercito atlas che però non vi spoilerò cosa succederà dopo perché o sicuramente lo conoscete o se non lo sapete è una cosa che ha da riservare molte sorprese è ora di mandare un messaggio basterà una stretta di mano del premier per far cambiare faccia a questo paese non voglio mettervi sotto pressione ma salvatelo è qua che inizia la nostra buona fortuna ciao irons facciamo l'irruzione così violentemente i miei sono in posizione nessuno spara se non lo dico io ricevuto andiamo che non c'è da sparare come io ho fatto nella la campagna da me quindi ce la sta a boni state a boni come dice Valizio Costanzo è una figata perché li vorrei anche questi guanti magnetici cioè quando aperto le chiavi di casa mi servo di un combo che veramente non avete idea raggira la finestra i guanti non si attaccano raggire la finestra ok qui vi spoilerò pure che i guanti magnetici Sono una cosa che saranno comunemente usati nel gioco Quindi questo lo posso spolare tranquillamente Così anche come quello che sta piazzando ora avrò la carica muta Ok tutti morti nel colpo E' avanti su Deve piazzare un'altra carica non credo che qui ci sia Tu sai come è vero si ok Ecco qua che c'è Ai ai odio questo punto odio questo punto Perché l'ho fatto tantissime volte vorrei evitare di fallire adesso Comunque volevo il becchetto il pregliato ma comunque Sta al lavoro un più per me Allora c'è da strezzare i bersagli Uno Due Tre Nemici agganciati Tutti eliminati Dice Adesso se l'è svignata Non importa Michel il premier C'è da liberare il premier Ci sono uscito il primo colpo incredibile veramente E adesso cominciano delle più belle cose veramente che ho visto in questo gioco E ora andrete a scoprirla Due Uno Abbiamo il pit di un veicolo bianco su Independence Road In movimento a sud ovest rispetto a voi Andiamo su Oh Qui nella piazza voleranno Voleranno colpi Speriamo che si può morire RPC Nemico sopra l'autobus Lancia una marcatrice Granate a microonde Via Ok Facciamo le cose con la testa Allora Intanto eliminiamo il fio Lo scudo non mi serve a nulla Almeno Da quel che so io Ops Ok Prima ricarichiamo Aspettiamo di tornare vivi Perfetto Forse ci avevo dato un po' di rinculo Perché Diciamo che mi sballotta un po' la mira Ok 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 Anche lui Ok Anche lui No Partiamo dal fuori Volevo evitare di morire così tante volte Però Oh no Le bomba mi fonde Perfetto Perfetto Poi l'altro Perfetto Diciamo che la cosa è quasi perfetta Andale 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 Ottimo Tu non hai fatto neanche tempo di avvicinarti chi sei morto Perfetto Non ci sono le granate Impedicenti Fuori un altro Fuori un altro ancora Uh Scappa 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 Le bomba Mi che onda Tu hai fatto una grandissima avventura A stare qui Non ci sono le granate Non ci sono le granate Poi l'altro Ok 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 Ora arriva la parte più bella A destra A destra Super Super Oh Andiamo Cioè, serviva Sparare così C'è un pallone Ma non si buca Oh La torretta è blindata Dobbiamo aggirarla Vincel, aggira quella tecnica Ok Affeggiamoci alle pesche Oh, proprio questo è scolo Ok Torretta è blindata Torretta è blindata Non male, Mitchell 2-1 Il bersaglio è da ovest sulla Liberty 500 metri Manca poco Di qua Eccoci con i quattri magnetici Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda 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 Ma c'era Trebbe sa E la strada E prima però li farei fuori Si, aspetta un secondo Non scassare Ottimo, ottimo Mi scelta la vostra sinistra Ok, qua di pulito Perfetto I cani hanno veramente vita Una meschina Di coscienza, qual è il furgone? Ha restato per i metri di velocità Togli di mezzo i SUV Oh, grazie Un colicro frolla via Incredibile E ci siamo sopra, ragazzi Elicottero nemico, a battere! Vai! Salta! Furgone ore 12 Salta! Che caso viene questa macchina qui si finisce dritti in mare? Ragazzi, è una cosa epicissima sta qua C'è da salvare il premier Appunto E anche gli ostaggi E andiamo a nuotare verso l'alto Non siamo annegati Ma cazzo dimmi che è ancora vivo Sta calmo, respira ancora Più o meno Che cazzo volevano da questo tipo? Non lo so, non mi interessa Ci penseranno alla base Ma Gianni, soddisfatto dell'investimento? Sì, avete fatto come promesso Come promesso? Bene, ragazzi Questa missione qua durava Un po' meno Delle altre Vediamo qua che andremo a Bisogna la resistenza Noi ci salutiamo qui Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Lasciate like e iscrivetevi Ciao ciao a tutti